Allora, ieri la Lucy, amor mio, è venuta a fare il carico scarico sola, scarico, però non è riuscita a mettere il tubo, vediamo adesso come fa. Non so, non riesco a trovare una panca. Eh, andiamo a vedere, amor, dai. Io ieri ho solo trovato... Sì, che c'è tutto pronto. Non è tutto pronto, non si abita. Tu, secondo me, hai preso quell'altro tubo. Quello sbagliato. No, ma aspetta, l'ho rimesso dentro nella scatoletta. Questo qui è piccolino, non si abita. Ma poi non si svita neanche da qua. Amor, bisogna far... No, aspetta, si svita, ma è piccolo, guarda. Vediamo, vediamo. È piccolo, e questo? Cosa è questo? Questo tubo lo smontiamo? Non sfasciamo, smontare... E come si fa? Si schiaccia questo. Questo esce. Prova adesso. Ah, ma no, io l'ho trovato quello rosso dall'alto... Eh, tu fai gli esperimenti, vedi che funziona? Amor. Ecco. E' attaccato? Sì. E adesso? Sì. Ho sentito qualcosa che vola. Eh, certo, la tarantola. Adesso si fa così. Ma va a San Brodo, vai a cercare gli attacchi nella scatola di là, non ce n'era uno che si attaccava. Ma cosa ridi? È tutto pronto, muli. Basta fare tic-tic. Intanto ti ho lasciato da svuotare la cassetta del WC. Perché mi sono nervosita e me ne sono andata. La cacca sempre io, eh? Certo. La cacca porta bene, è fortuna. Svita qua. Ma si svita. C'ha le manine. Oh, vedi che ci sei riuscita. Vai, facciamo così. Metti il tubo dentro. Ecco. Oh, così. Brava. Spara dentro, infila. Non entra. Oh, piano. Non ne illudo niente, amore, tranquilla. Dai, apri l'acqua adesso. Ecco, così si fa il carico e scarico. L'avevo già fatto una volta, è solo che la fontanella non era così. Ieri non era. E ce l'avevo fatta tranquillamente. No, c'era già il tubo attaccato. C'era già il tubo attaccato. Vabbè, dai. Adesso svuoti la cacca.